ciao oggi sono davvero contento di presentarti la nuova brooks glycerin 16 il telefono scusatemi pronto ciao vincenzo sì sì sono marco ciao cosa la glycerin 16 del colore 2019 guarda mi è arrivata stamattina in negozio la sto presentando adesso per i nostri amici che ci seguono su youtube e oggi pomeriggio la trovi disponibile sia in negozio e ovviamente online guarda lasciami che finisco la descrizione e poi casmai ti richiamo io non preoccuparti ciao 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 scusatemi di questa interruzione però era un caro amico dicevamo che brooks glycerin 16 in questo caso è già qualche mese che è fuori ma questo ci dà modo di poterne parlare con cognizione di causa e che dire il risultato è stato veramente ottimo di questa scarpa l'ammortizzamento è soffice è molto morbido soprattutto sulla parte talonare grazie all'intersuolo in dna loft ma la cosa che ha stupito noi stessi e i nostri clienti è il fitting della tomaia e il contenimento del piede all'interno della tomaia stessa infatti brooks utilizza su glycerin 16 un materiale di nuova concezione che contiene perfettamente il piede al suo interno la scarpa anche dopo più chilometri non si sforma e si ha un estremo controllo del piede in ogni fase di corsa la calzatura si può usare tranquillamente su asfalto o anche su strade bianche le sensazioni che si hanno correndo sono di estrema leggerezza di facilità della rullata di naturalezza nella corsa questa scarpa la consigliamo tranquillamente per gli allenamenti nelle medie lunghe distanze ovviamente non è una scarpa leggerissima però il comfort che dà sul piede veramente confonde un po le idee e secondo me anzi ne abbiamo avuto più di qualche riscontro anche i podisti un po più evoluti la possono usare quando devono fare degli allenamenti più tranquilli insomma vi aspettiamo in negozio per provare anche per il 2019 la brooks glycerin 16 e se abitate lontano perché no potete comprarla comodamente online su www.passport.it ciao